Ehi, manchina Metti una fesce Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi finalmente è arrivata My Cheek Box Che ci avrà messo tipo due mesi Sì, due e mezzo Così tanto, anche di più Non sappiamo cosa c'è dentro Non so, c'è neanche il genere No, il genere forse è come Come si dice? Come? Z-box, no? Il genere è quello È talmente leggera Stavo leggendo qua che c'è scritto Giurai 2019 Ehi E' una rimanenza, una rimanenza Quindi qua c'è roba Diciamo, è nuovissima roba che c'è qua dentro E niente Comunque abbiamo ordinato Appunto due mesi fa Una via Per me Scusa Per me è che questa è l'unica La prima e l'ultima box Di My Cheek Box Sì, no Perché io non aspetto mai più così tanto Perché ci sono stati Le problemi a dogana Se non sbaglio L'hanno trattato per la dogana Massimo Cioè manco importassimo della cocaina E niente Ci ha messo troppo 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 Ad arrivare Adesso facciamo i video Perché l'abbiamo presa Sono anche curiosa Ma Mai più Mai più Se ci sentite così Siamo un po' raffreddati Un po' tanto Un po' tanto Io sto morendo dentro Ma mia Chiara fa Faccio i video Faccio i video O mi piace solo per chi è Che sta facendo il video Che sta morendo Mamma mia Scioccante E niente Andiamo a vedere cosa c'è Perché poi Sono curiosa Sì ma muoviti Che devo andare sotto le coperte Muoviti Va bene Iniziamo Qua c'è anche da tagliare C'è il sigillo Quanto è la mia pagata Che non mi hai fatto Tu l'hai pagata Tu l'hai pagata Io l'ho pagata Io l'ho pagata Io Cioè Pago le cose Non le so Quanto è pagata Per questo Sparesco di soldi Ok ci stiamo Ho pagata 25 euro 25 Credo 30 Forse massimo 30 Ha fatto a tu L'hai pagata No io l'ho fatta L'ho prese tutto Poi ho messo i due dati Ho pagato qui Eh bravo Che ho messo i due dati E devi prendere la sette Ok ci stiamo Vai Adesso prendiamo una Ma perché c'è sempre tu Non capisci Voglio prendere una cosa alla vuota Ah bello Questo è una collezione Questo è molto bello Ci sono due Wow Questo è molto bello Sa che ti dà aria Perché fanno Ed è a dieta C'è una maglia qua Ricordiamo che La box è per donne XL C'è una maglia qua No dai No ma io sento una maglia Comunque le donne Non prendete Non prendete i soldi Da contro Di vostro Che cos'è questo? Danni? Non lo so Per chi sta cos'è E chi magari è interessato Ma apriamo Che ci trovi dentro? Come sarà un coniglietto qua Con dei coniglietti? Sì sì Con dei coniglietti incazzati Quelli che si ammazzavano a vicenda Come che si chiamavano? Non mi ricordo Però era bruttissimo Happy Free Friend Happy Free Friend Poi la pronuncia Fa cagare Sì perché ha fendato Perché si fa cagare Vabbè Bello Molto bello Dai C'è la testa tagliata È una bomba Ma va così Tick tock Così Così va Cioè è in pratica Un coniglio Con la testa mozzata Che brutta Cosa C'è anche il benghio Sì diciamo che abbiamo iniziato Amore stoppa che non sta ancora non andato Stoppa taglia Taglia Stavo dicendo che abbiamo iniziato proprio bene Con questo coniglietto Con questa mozzata Che è tipo una mina È brutto Non mi piace Non è una mina È una bomba Ah è Che va Che sembra da complicare Non è terreno Dai due cose le sto prendendo Questa è una moneta Di Giroc No 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 È una moneta di Skyrim Skyrim è un gioco per computer Ah davvero Sì È una volta molto interessante Che cos'è È un gioco quindi Skyrim Sì Skyrim è un gioco di ruolo Per computer Bellissima moneta Vediamo se è di metallo Beh pesante pesante Limit edition coin Tutte queste cripto monete potrebbero fare anche Skyrim coin Forse Di loro Lo so Che bella È proprio Sembra proprio tipo da collezione Fa sentire una cosa E pesa Sembra proprio una collezione Non si apre Ma si che si apre È un po' sottovuoto Qua c'è E' finita la moneta Non si più la mia Ma si è poco Ed è noto sì Bella però Bella pesa Cosa è bella Anche Cioè non so che cosa sia Ma è bella Perché qua dice che Ce ne sono Solo 9995 Nel mondo Wow Che cura Noi ne abbiamo uno E questo è il numero 2799 Che cosa è interessante Va? Se andava avanti O ti stai a guardarla No No domani Molto bello Niente Comunque Penso Secondo me Molto bello Molto bello Molto bello Andiamo avanti Cosa c'è qua Dei calzini O molto Che bello Dei calzini Di atletica Di Call of Duty Black Ops 3 Che è un gioco di guerra Per computer Per pc No parco No parco Per playstation Xbox Appassionato di giochi Si vede Invece Di no Questi vanno bene Per mio padre Che va Che gli piacciono i calzettoni così lunghi e belli Spuriosi È lui che ne sa Cosa che ci vada Tu fai Ah si Beh papà Allora ti regalo Ti regalo Questi belli calzatori qua 812 812 In americano Quindi io taglio a 9 Sono 42 e mezzo Quindi va bene Si Che disegno ci hanno? Eh Apri Apri Ma lascia così Sì Ieri regali a tuo papà C'è io C'è io Vabbè andiamo avanti Ci sono altre due cose Che pare sto Game of Thrones bro Oh che Ma questa è la seconda Ma sto bruttando Guarda Ma questa è la seconda Questa è la seconda statuetta Di Game of Thrones Ma perché non c'è qualche funco Di qualcosa che mi piace? Allora Abbiamo capito una cosa Non comprate Este box Mai Ma proprio mai Mai Con tutto quello che Spendete all'anno Non so The Ant Con tutto quello che Spendete all'anno Andate Andate sui siti Specializzati Sui siti specializzati E comprate quello che volete Perché se il box Fanno cagare Cagare Fanno Infatti La più bella C'è l'ultima Cagare Non è che spesso Tu i soldi Secondo me è un funco No Non ti dà così 25 euro Un taglio C'è te che sì Ci mangia Ormè tre pizzi Vabbè Non è un bruttissimo E anche Iron Man Non è Iron Man Vabbè C'ha Capitano America Ah davvero C'ha E perché c'ha la cosa Ma non è Capitano America Infatti È Iron Pride Iron Pride Per te Carino Non sa qual è Quello di Iron Man Ma quello Iron Man Però quello del Tizio di colore Dai Dell'amico Come si chiama Falco? No Dai che Sai quando lui Fa tanti Iron Man Ne fa uno Per lo stato americano E questo qua Che usa Il colonnello Ah come d'è? Sì Bellissimo Carino eh? Sì Bellissimo Però Cioè guarda Erano tutti Molto più belli Mi è arrivato Sto qua Io volevo Spagli A me Guarda Anche Torre Guarda che carina Che sono Con gli altri Carino C'è una parte Che è del 2019 Stavo Sì direi che Qua c'è una bombettina Poi Poi vediamo Chi c'ha Ma c'è Più Dentro Anche Dai I vari soldi Comunque 25 euro Per Ma poi Non c'è Un doniglio Mezza bomba Lui che mi sta Sul cazzo Perché non lo posso Vedere nel film Sto coso qua Che è schifo Fino all'eternità C'è Le cazze La moneta La moneta Che sicuramente È la cosa Più bella Che c'è In questa box Ma Io non Gioca skyrim Però Rispetto Chi Gioca skyrim Perché è un giocone Le calze La maglia Le calze Che darò A mio padre E Questa bellissima maglia Che non mi sembra Neanche xl Per una gonda È arrivato È arrivato il corriere Comunque Dicevamo che Per ultima La maglia A me è comunque Non mi dispiace Stamai E dopo Magari me la provo Alla fine È una maglia Xl Xl Almeno Xl 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 dei cinesi Questo Va va Quindi la domanda è Conviene comprare queste box Che arrivano ogni mese Con grandi sorprese e stupori Che voi aspettate il corriere È passata la dogana Aprite il palco Sperando Cosa c'è dentro E invece Matematicamente Ci sarà roba Che non vi piace Vi fa cacare Quindi fatemi una mystery box Voi Fate finta che non sapete cos'ha Quando l'aprite Dobbiamo fare così Comprate le figure che volete voi Le manette che volete voi I zerbini che volete voi I zerbini Sì Infatti abbiamo dato un zerbino Quelli della banana best Non è vero Sì Non è pagato No Ma tutti gli do pagarlo Sì Comunque Quindi La risposta è No Non prendete Non prendete Soprattutto il C2box Perché arriva veramente Dopo tantissimo tempo Poi Sta un mese in dogana Controli qua Che poi non è che ti dicono tanto Nei messaggi Dogana Sì Cioè È in dogana E poi passa un mesi 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 Scusa mia amore Che può Dico Alla fine Fai pure fatica Devi conservare Sta roba Che ti fa cagare Non la puoi neanche vendere Perché chi se la compra Alla fine Comunque Potremmo fare un giveaway Con i nostri fan È tipo Che ne so Noi Mettiamo un numero Non so bene come si fa Però Alla fine Seriamo un numero Il numero di questo qua Vince E noi gli regaliamo qualcosa Quindi visto che Siamo belli queste cose Non abbiamo andato incivolto E scrivete nei commenti Il primo che scrive Glielo do No Così è brutto È più bello Il giveaway Che vince Scrivete nei commenti Se volete un giveaway Un giveaway Un giveaway Un giveaway Un giveaway No non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Con questo è tutto Con questa terribile notizia è tutto Ci salutiamo Ci vediamo al prossimo video Che faremo fra Due minuti Visto che abbiamo Il tempo corto Per fare un video Un giorno E niente Vi salutiamo Ci vediamo al prossimo video La bellissima Chiara Che ogni due giorni Cambia colore E ci vediamo Commentate Mette un like Iscrivetevi Dite la pagina Instagram Chiara.è Punto piano Lo scrivo Nei 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 Come si dice Lo scrivo giù Se volete Seguirci su Instagram Se volete un video In cui mangiamo Le cose Che piacciono più a noi Quello è un video personale Faremo un video Se volete Dolce Tutto dolce Tipo Io prendo la cosa Che mi piace di più Al mondo È chiara La stessa cosa E poi la mangiamo E E Vi spieghiamo Perché E' così Parliamo Chi è che paga Parliamo Ah Paghi tu Io pago il mio Tu paghi tu No Com'è Io pago questo Tu paghi tu Cioè E' tutto 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 Va bene Vi salutiamo Al prossimo video Che faremo fra due secondi E Ciao a tutti La mano non c'era io Perché sto male Ehm 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 Grazie.